a stare bene come viene sbri senza fine io va così c 24 ore non stop garantito vivo solo hip hop quando arrivo sopra il beat in un mix e e e al core con la tripla x x negazione mo checks per svoltare questo tipo di situazione in un mondo che è trash come slash allucina come il flash bar di moda il cash metti 100 lire scegli la canzone on e non e quando arrivo in trasmissione speciale per dj rodrigo sono caldo come il fuoco ma pure freddo come il frigo mi sbrigo su questa trex in rilasso già sai com'è tipo porra me la passo sopra il grasso b il mio guaglione un guru e pure il maestro sono qui quel che c'è l'avrai perché dentro me tu già sai cos'è funky sole jazz eh eh eccec ecc eccetera nella testa c'ho un romanzo tipo milan cunghera del riso dell'oblio ma santi dio quando mi imposto sulla traccia vado giù un fottio un ufo tipo schio funky marziano italiano scafati bologna via milano originario qui chi ci sta col vocabolo ma lascia che ti porti via per l'epilogo io è il dopalista non benevole che impusta e musta c'ho più fotta io che trezzo un rasta il fiacco in cicci fitto baccici mette la camera nella smoking dice che è TH3C ma già sa che non bene chi è chi è chi è chi è chi è sangue misto nel 97 e questa merda non smette splette tecniche continuamente sbrifix la differenza si sente ed è così io sangue misto e